Il presidente della regione Nello Musumeci risponde con i numeri alla scelta del governo, secondo lui inadeguata, di attribuire la fascia arancione alla regione Sicilia per contenere il contagio del virus. La situazione sanitaria, secondo il governatore, risulta essere sotto controllo. Su 5 milioni di abitanti in tutta la regione, 148 sono in terapia intensiva, 1.100 ricoverati positivi su 2.500 posti programmati a disposizione. Nello Musumeci esprime il suo pensiero durante un programma televisivo in onda sul Rai 1. Spero si tratti di una svista da parte del governo, dice Musumeci, perché con questa manovra governativa per quanto riguarda la Sicilia sembra di essere su scherzi a parte. Voglio sperare che sia stata una svista, un errore di valutazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico, perché anche un bambino se mette a confronto i dati della Sicilia con quelli di almeno altre 6-7 regioni d'Italia si rende subito conto che si tratta di una grande, grave sbavatura. Pensi che noi abbiamo 148 posti occupati in terapia intensiva e siamo una regione di 5 milioni di abitanti, abbiamo 1.100 ospitati negli ospedali positivi a fronte di 2.500 posti letto programmati e disponibili. Ma di cosa stiamo parlando? Davvero sembra veramente una barzelletta, sembra una sorpresa, sembra che siamo su scherzi a parte. Questa decisione, affrettata, superficiale, frettolosa, veda, incoraggia la gente che vuole andare in piazza. Conosco la mia gente, ma se la gente sta a casa e si accontente di un pezzo di pane con un poco di formaggio perché ha fatto sacrifici, ha il diritto di vederselo compensato questo sacrificio, altrimenti dice va bene, va, niente, usti sui, che due che vogliono fare fanno a Roma. Ecco qual è il vero problema. Noi siamo stati una regione che nella prima fase abbiamo seguito la linea della fermezza e del rigore e quando poi arrivano questi risultati è chiaro che si prova amarezza e qualcuno prova anche rabbia. Ma siccome i siciliani siamo un popolo civile, stia tranquilla che se andiamo in piazza lo facciamo per protestare civilmente, non certo per poter degenerare o alimentare violenze.